prepariamo oggi una torta molto particolare a base di farina di mandorle e farina di pistacchi è una torta che per le sue caratteristiche è adatta a chi ha intolleranze al lattosio chi ha intolleranze al glutine e anche per i vegetariani, non per i vegani perché utilizzeremo le uova. Ci serviranno 150 g di mandorle fresche e grattugiate non troppo finemente, 150 g di pistacchi anche questi che verranno grattugiati non troppo finemente, 200 g di zucchero semolato, 6 uova che andremo a dividere in tuorli e albumi, gli albumi verranno montati a neve non troppo ferma, un bicchiere di acquavite, io ho scelto una variante sarda, il filet verro e la scorza di due limoni biologici. Iniziamo. Iniziamo separando i tuorli dagli albumi, quindi abbiamo messo nella ciotola della planetaria i nostri tuorli, da parte i 6 albumi, quindi andremo ad aggiungere i 200 g di zucchero e montiamo in macchina a lavorare con la frusta per circa 10 minuti finché il composto sarà chiaro e spumoso. A questo punto vedete che il composto è molto chiaro e spumoso, andiamo a montare a neve i nostri albumi. Mi raccomando lavoriamo fino al circa il 70-75%, non deve essere una neve ben ferma. Giunti a questo punto, come vedete il composto è montato a neve ma non è proprio perfettamente montato. Questo garantirà al nostro impasto di sviluppare ancora durante la cottura, dal momento che non aggiungeremo assolutamente del lievito. Quindi andiamo ad aggiungere questa nostra montata al composto precedentemente preparato di tuorli e zucchero, incorporando dal basso verso l'alto con delicatezza. Questo è il risultato. Come vedete il composto è molto molto morbido e adesso andremo a dividerlo in due parti, perché ad una parte aggiungeremo la nostra farina di mandorle, mentre all'altra aggiungeremo la farina di pistacchi. Quindi adesso andiamo a terminare questo composto aggiungendo subito la nostra scorza di limone, mescoliamo e la nostra grappa. Mescoliamo per bene e quindi dividiamo il composto in due. Una volta diviso in due il nostro composto andiamo ad aggiungere al primo la farina di mandorle e quindi mescoliamo con delicatezza, mi raccomando, e incorporiamo tutto. Quando prepariamo una teglia, io ho scelto una di quelle con il gancio, di circa 25-26 cm di diametro. In questo caso io l'ho indurata e infarinata, ma chiaramente chi è ciliaco potrà evitare di utilizzare la farina e utilizzare soltanto o la fecola oppure semplicemente il burro, oppure della carta forno. Quindi andiamo a depositare il primo composto nella nostra teglia e distribuiamo per bene. A questo punto aggiungiamo la farina di pistacchi al nostro secondo composto e come nel primo caso mescoliamo per bene. Andiamo quindi ad unire il nostro secondo composto sopra il precedente. Certamente un po' si mischieranno ma rimarrà comunque una separazione tra i due in buona parte. Se volete potete mischiare con uno stecchino creando dei ghirigori sulla superficie. In questo modo l'impasto sarà ancora più marmorizzato all'interno. Io preferisco lasciare una separazione abbastanza netta. Andiamo quindi ad infornare in forno caldo, 160 gradi, calore dal basso, ultimo ripiano del forno, ultimo più in basso intendo, e ventilato. La tempo di cottura sarà circa un'ora, però dovremo certamente controllare con uno stecchino. E' questo il risultato dopo appena 40 minuti di cottura. Ero convinto che ci avrebbe messo circa un'ora e in effetti però il forno mi ha contraddetto. La cottura è più che sufficiente di 40 minuti almeno nel mio forno, poi chiaramente voi dovrete controllare sempre il vostro perché ogni forno ha le sue caratteristiche di cottura. Ora la lasciamo raffreddare e quindi la impiattiamo. Dopo una spolverata di zucchero a velo, questo è il risultato. Non ci rimane che tagliarla e assaggiarla. E questo è l'interno. Guardate che meraviglia! Non ci rimane che assaggiare. E' sofficissima! Davvero buona! Provatela! Buon appetito!